questo qua il campeggio dove si prepara prima di andare al deserto bianco come vedete poi si vede sempre qua tutto fatto perfetto per voi basta visitarvi e trovate tutto anche qui dentro si trova la piscina ora noi siamo qua al deserto dove c'è la montagna di cristallo abbiamo cominciato il nostro giro al mattino presto arrivando a Pajaria e poi arrivati qua e eccola qua la montagna famosa come la montagna di cristallo una montagna molto grande molto bella dove si possono vedere tutti i cristalli tutta la montagna brilla che si trova il cristallo basta fare così tiene qualcosa in mano troverai il cristallo solo dalla terra una montagna di cristallo vicino al deserto bianco egypte ex casual stores si si è una cosa che sta presente guarda si guarda 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 sì sì perché adesso a destra nostra è il nord questo qua il campeggio tutto già pronto siamo già al tramonto un bel tramonto al deserto si vede qua li tende dove si dormano se vedi sempre qua le nostre macchine eccolo qua il deserto bella notte bella giornata in tutto il deserto grazie con noi egipte e farete il vostro prossimo viaggio al deserto bianco ti aspettiamo grazie a un bel tramonto al sole eccoci qua alla fine della giornata alla fine della giornata al deserto bianco eccolo qua un bel tramonto al deserto bianco alla fine della giornata è un bel tramonto è un bel tramonto è un bel tramonto un bel tramonto che ha che che lì 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 che che Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Un altro paradiso di Lio si chiama il Deserto Nero. Si trova dopo Paria, quasi ventina di chilometri. E come si vedono le formazioni che noi abbiamo là sulla montagna. E come si vede oggi il cielo. E come si vede le formazioni che noi abbiamo là sotto. Tutti i formazioni che noi abbiamo qua nel Deserto Nero. E come si vede le formazioni che noi abbiamo. E come si vede le formazioni che noi abbiamo. Grazie a tutti.